Noi andiamo, come sempre, a quest'ora, beh, insomma, in quello che è l'appuntamento, no, clou. Lui. Lui. Don Antonio, buongiorno. Buon luglio. Senti, senti che dolcezza. Vai. Va a dare un po' di acqua ad un fiore e cambierà l'umore la tua giornata. Va a dare un po' di acqua ad un fiore e cambierà di umore la tua giornata. Cioè il prendersi cura, no? Eh, ragazzi, il fiore, il fiore è sempre dolcezza, è sempre dolcezza, colori. Beh, però ci piace, a me piace molto questa immagine. Educhiamo anche i ragazzi, educhiamo anche i ragazzi a coltivare i fiori, educhiamo anche i ragazzi a coltivare i fiori. Va bene, va bene, ciao Don!